Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti al mio canale. Oggi sono qui per parlarvi di Boyfriend Material, una commedia romantica britannica di stampo Eminem, cioè i protagonisti sono due uomini, due ragazzi, come vedete dalla copertina. Il libro è stato tradotto in italiano, io infatti ho comprato la versione italiana disponibile da Mondadori a 16 euro nella collana Oscar Fabula e devo dire di non essermene pentita e quindi sono felice per una volta di farvi una recensione in cui non sto tanto a criticare un libro quanto a consigliarvelo perché che cosa c'è di speciale qui rispetto ad altri romans di cui mi sono tanto lamentata in questo periodo? Abbiamo una scrittura intelligente, delle battute argute, uno humor britannico molto acuto, molto sagace che in certi punti mi ha fatto crepare dalle risate a voce alta mentre ero in pubblico perché vi dicevo io avevo la versione cartacea italiana però poi ho deciso mentre giravo a Londra, anche perché vedete proprio anche i colori della copertina suggerivano questo utilizzo, l'ho ascoltato in audiolibro mentre giravo per la città e l'accento usato dal lettore è quello britannico e mi ha fatto crepare dalle risate in certi momenti, c'è qualche piccolo difetto ma dipende anche lì da che cosa andate cercando. Vi posso dire una cosina, se vi interessa prenderlo fatelo magari in questo periodo qui perché se prendete due libri della collana Mondadori da una vasta selezione potete ricevere in omaggio questo borsone qui di cui ve ne avevo già parlato è bello grosso, c'è anche in versione, qui c'è il logo della Mondadori, c'è anche in colore azzurrino e sì, potete usarlo come borsone della palestra o per andare in viaggio come ho quasi fatto io solo che all'inizio alla fine mi sembrava troppo grande va bene, comunque tornando a noi questo libro praticamente ti fa ridere fin dalle prime battute già aprendo la prima pagina potrete capire come la scrittura in genere è più curata rispetto a quella di altri libri nonostante il punto di vista sia, se non sbaglio, sì, un po' in prima persona però ecco, questo è un esempio perfetto di come si può scrivere in modo intelligente una storia in prima persona senza cadere nelle solite banalità Alexis Holtz a scrivere e si vede, è un uomo ha scritto anche altri libri, ha scritto anche un sequel di questo libro adesso stavo leggendo una recensione e dicevano che era evitabile mentre il primo era molto carino in effetti per quanto mi sembri che il libro abbia avuto una fine un pochettino abrupt, cioè un pochettino troppo rapida ci stava comunque l'autore cerca di proporci un subvertimento delle dinamiche della commedia romantica ma ci sono alcune scene che ricordano per esempio Notting Hill e tante altre commedie romantiche con cose che dovrebbero essere stereotipate infatti l'autore ti fa capire no, ma questa nella vita normale non succede ci troviamo di fronte sostanzialmente a due imbranati che secondo un troppo che moltissime scrittrici di romanzi rosa amano devono stare insieme perché hanno bisogno tutti e due di avere un finto fidanzato Oliver, il nostro bellissimo biondo credo che fosse per mostrare un fidanzato alla sua ipercritica famiglia e invece il protagonista Luke che è Lucien Lucien si chiama, in realtà è di origine francese lui ne ha bisogno per conservare Lucien, non mi ricordo come si pronuncia ne ha bisogno per conservare il suo lavoro e normalmente ecco in tanti altri libri c'è questa premessa qui è un pochino più credibile e Luke, come si fa a chiamare nonostante il nome sia appunto Lucien ha un padre rockstar che non ha mai conosciuto anche la madre era una rockstar e di fatto lui è stato cresciuto solo da lei sono tutti personaggi un po' sopra le righe però credibile perché c'è del cuore nel modo in cui si relazionano e loro due sono entrambi amici di una ragazza che dice che sono perfetti l'uno per l'altro e noi abbiamo la sensazione fin dall'inizio che in realtà Oliver e Lucien sia sempre piaciuto però invece Lucien dice impossibile perché una volta io ho provato a gettarmi tra le sue braccia e lui ha detto sì ok siamo gay tutti e due ma io con quello? no, è un rifiuto simile, è terribile e praticamente lui è un po' un sgueldrino insomma che va addosso a tutti mentre lui è uno che per esempio per gettarsi tra le lenzuola con uno ha bisogno di più tempo il tipico rigido che sembra tra l'altro pure snob è un avvocato mentre l'altro lavora in uno studio non in uno studio perdonatemi in un'associazione di beneficenza lui fa il marketing per questa charity che punta a salvare i coleotteri che servono per concimare la terra o qualcosa del genere quindi servono per l'ecologia tutta e lui riesce comunque a far sembrare questa cosa poi credibile e ad un certo punto fa una figuraccia lui ha una celebrity minore ma per via del padre lui non ha mai fatto niente solo che è figlio di questa celebrity qui degli anni 80-90 e il problema è che il padre però è tornato sulla cresta dell'onda perché si è messo a fare il giudice di un talent show e allora adesso parlano di lui ma nei giornali di serie Z ad un certo punto lo beccano in una situazione compromettente e pare che lo vogliono licenziare al lavoro e lui quello è l'unico lavoro che ha avuto insomma è un po' un disastro e anche Oliver si ritiene un disastro il bello è che nessuno di loro due pensa questo dell'altro potrebbe sembrarvi esasperante il modo in cui non si comprendono ma perché vi dicevo sono due imbranati ed è caruccio vederli rapportarsi l'uno con l'altro e quante volte sbagliano perché qui c'è proprio un tipico caso non da parte di uno solo ma da parte di tutti e due di persona che ha paura di lasciarsi andare perché è stato troppo ferito perché ha una bassa autostima questo nonostante Oliver per esempio vada in palestra sia bello non pompato bello insomma aitante bello anche con un ottimo lavoro solo che lui è una famiglia ipercritica e Lucien pensa a Lucien scusate di non aver mai fatto niente di valido nella sua vita che nessuno l'abbia mai voluto ma forse forse è un po' lui che scappava quando davvero la storia diventava un po' un po' seria e ho ritenuto il loro scappare il loro avere paura di relazionarsi in maniera più duratura credibile ma veniamo a quello che mi ha fatto ridere già ci sono diversi proprio nello stile nel modo di pensare di Lucien notate tantissime cose che sono già divertenti di suo vi dicevo che hanno entrambi questa amica qui che lavora nell'editoria e che in continuazione vive sul filo dell'emergenza una delle battute che mi ha fatto creppare dal ridere nella tube londinese cioè la gente non ha pensato fossi scema diceva oddio stavamo pubblicizzando un nuovo capolavoro di fantascienza e pensavamo che fosse perfetto per i fan di Philip K. Dick questo grande autore di fantascienza e quindi abbiamo scritto nello slogan se amate Dick amerete questo libro però in inglese è if you love Dick ma Dick in inglese è anche qualcos'altro cioè l'attrezzo maschile e il bando è che erano stati così cretini tutti quanti che nonostante questo slogan fosse stato rigirato fra un'intera redazione nessuno ha pensato che potesse esserci un secondo significato e quindi era andato era partita la campagna pubblicitaria anzi era persino uscita il libro alla fine e avevano iniziato a ricevere chiamate di protesta perché se ami il C il C-A-Z-Z-O allora amerai questo libro sembra preintendibile sembrava che dicessero quello e quindi mi vogliono licenziare ma poi stranamente il libro sembra andare bene bene nelle vendite se ami il Dick lo intendevano l'autore di fantascienza però si era rigirato e c'erano un sacco di altre stupidaggini simili per esempio sempre questa tizia diceva avevamo messo un titolo un po' provvisorio un libro libro senza nome e poi era andato così in stampa libro senza nome e c'è tutta una scena finale che ricorda un po' Notting Hill con Lucien che cerca di riconquistare Oliver anche se forse non è lui a doversi scusare seguito dai suoi amici e avete presente che nei film perfetti tipo in Notting Hill si arriva a un climax no? cioè se un gruppo fa tanta fatica allora si arriverà a qualcosa ecco non è sempre così questo libro si diverte a dire eh le cose a volte non vanno così nella vita reale un pochettino ti smonta un pochettino però alla fine ne viene fuori qualcosa di genuino e ti favo per questi due scemotti e soprattutto è carina anche tutta la parte dedicata ai genitori in particolare come Lucien ha risolve scusate la faccenda del padre che ad un certo punto si presenta da lui dicendogli che forse non hanno molto più tempo per stare insieme e e non ci sono cambiamenti miracolosi da parte di alcuni personaggi semplicemente c'è molto uno studio del personaggio di ciascun personaggio e una maniera credibile di evoluzione nei rapporti che vengono descritti nel libro e quindi io ve lo consiglio assolutamente mi ricordo che lo stavo leggendo in libreria e io a volte sono reluttata a comprare a volte leggo nella libreria stessa pensavo no dai però sedici euro per un libro poi mi sono decisa perché volevo prendere la borsa e ho pensato però ne vale la pena ne vale la pena perché è un buon romance è scritto bene tra l'altro di un sottogenere appunto il sottogenere M&M non so neanche se si dica così comunque il sottogenere del romance gay insomma e vale la pena di premiarlo e quindi vi invito in generale a mettere i vostri soldi dove voi pensiate che valga la pena di farlo se volete leggere altri romanzi di questo tipo se volete che altre autrici come questa vengano portate come questo anzi vengano portate in Italia è importante farlo capire alle case editrici è importante premiare questa questa iniziativa ne vale la pena Alexis Hall merita i vostri i nostri soldi molto più di altre autrici specie da di quelle che escono da TikTok qui si percepisce qualcuno che non so se ha pubblicato su Wattpad o altre piattaforme simili so solo che è una persona che sa scrivere e comincia ad essere raro nel mondo del romance in cui appunto vengono pubblicati lavori di persone che scrivono in maniera amatoriale quasi non è il caso di Alexis Hall se prenderete questo romance potrebbe esasperarvi a farvi venire a tirare il collo ai due ragazzi ma alla fine penso che lo troverete adorabile endearing adorabile è questo l'aggettivo che mi viene in mente e soprattutto se volete sentirmi un po' nell'atmosfera londinese è l'ideale vi lascio nella descrizione il link per prendere questo romanzo sono piuttosto certa che non ve ne pentirete però se non vi fosse piaciuto fatemelo sapere nei commenti se invece vi fosse piaciuto fatemelo sapere mi avete consigliato altri romance M&M e sono completamente aperta se sono buoni a leggerli ho letto questo romanzo consiglio di uno di voi e vi ringrazio perché non gli avrei dato due lire più che altro perché sembrava un pochino la solita storiella da tiktok no è solo che di questi tempi vanno queste copertine un po' cartonesche che non mi dispiacciono in sé però sembrava qualcosa di di meno spumeggiante di meno sagace di meno nuovo rispetto a quello che mi aspettavo e quindi sono contenta di aver visto smentita la mia mini impressione iniziale e di avergli dato una possibilità e spero che sia lo stesso per voi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se vi ho invogliato io a comprarlo e lo comprerete online mi raccomando fatelo del link presenti nella descrizione video perché così sostenete il mio canale vi ringrazio di avermi seguito anche oggi e alla prossima